Al via la decima edizione del Borgo dei Filosofi, un evento fortemente voluto dall'assessore alle politiche giovanili del Comune di Avellino Stefano Luongo e dal sindaco Gianluca Festa. L'evento si svolgerà presso il Cine Meliseo con un'anteprima prevista per il 18 apri. Il programma si svilupperà a partire d'altro in maggio e si concentrerà su temi di grande rilevanza, di politica e di attualità con il coinvolgimento di centinaia di giovani. Primariamente è rivolto agli studenti, infatti sono coinvolte tutte le scuole di Avellino e Provincia. Noi avremo quasi 300 studenti, perché 300 mi pare sia la capienza del disegno. Abbiamo 300 studenti aggiornati che si alterneranno, quindi abbiamo praticamente un target di circa 1000 studenti che parteciperanno a questo evento. I grandi eventi si possono fare perché dietro c'è una struttura attraverso la quale si può programmare. Se il Comune, come io credo sarà, finalmente si rende conto dell'importanza di questa cosa. Dato che c'è questa fondazione, che è una fondazione di città di cultura, Avellino città di cultura, allora si può mettere in capo la fondazione, questo evento la fondazione può programmare. L'assessore Luongo ha voluto dedicare questa edizione a due persone speciali che purtroppo non ci sono più, come i professori Aldo Masullo e Francesco Saverio Fessa, che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. È importante sia perché da un lato parliamo di un'iniziativa che è indirizzata prevalentemente ai giovani, quindi agli studenti delle scuole superiori universitari. Ma allo stesso tempo è bello vedere che si è formato intorno al professore Di Gregorio, che è un po' l'animatore di questa rassegna, anche un gruppo di ragazzi, penso a Stefano Vetrano, Leonardo Festa, Federica Caprio, Valentina Di Gregorio, appunto anche nell'organizzazione, nella promozione, un team giovanile che voglia appunto sensibilizzare i propri coetanei su dei messaggi, su dei valori. Grazie a tutti.